ciao 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 a tutti dalla seo sto guardando la magica roma che sta a chi faccio questo video per dirvi che ci stiamo divertendo divertendo che prossimamente con nostro rientro in italia troverete tanti tanti video nel sacro blog tv con lo scoop di polino che per diciamo farsi una bella cicat ha imbaccato di essere tifoso del borsa e di odiare l'inter è una cosa grave perché ora si non si sa come la prenderà il nostro il nostro marino colombiano poi e poi poi ci sono stati avvenimenti molto belli ci sono state tante cose belle e poi prossimamente verrete a sapere su sacro comunque ricordo che il dottore filato per tutti voi se avete bisogno di ricette di consulenza america per altre informazioni digitate il 113 perché mi fa un po' un dolore da mettere un band alla panza la panza e speciale caminato a fare le condone io so metto la band alla macerotti disinfettare le ferite tutte cose tranne su poste su poste no e neanche favore e cortesia però 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 per amico fa per amico molti misteri vale ora noi andiamo su internet poi usciamo e non so che facciamo ciao è una maraquita è una maraquita Grazie a tutti.